Corgonzola ha una storia più che millenaria. La storia più comune è quella di una distrazione da parte di un casaro. Un casaro prodotto più distrattamente ha dimenticato la cagliata della sera prima, al mattino successivo quando si è accorto l'ha unita con la cagliata del mattino e qualche giorno ha avuto un riscontro di presenza di erbole natura sull'interno. Il brontano è prodotto quotidianamente con latte crudo, pastorizzato, ha un'aggiunta di fermento, caglio, il penicillo che è la famosa muffa che poi troviamo come erbole natura all'interno della forma e il liquido. Permette quella creazione degli spazi che durante la stagionatura in un preciso momento che è in una fase di floratura, verranno bucati e il regresso dell'ossigeno permetterà durante il corso della maturazione lo sviluppo del penicillo.